benvenuti benvenuti alla diretta di oggi di stampa evangelo una diretta che sarà come dire importante posso dirvelo fin da ora sicuramente importante per me ho delle cose da dirvi e le elencherò con quasi con fretta perché ci sono davvero molte quindi dovremo per certi versi accelerare nella nostra diciamo così trattazione quotidiana dei fatti del giorno il primo a collegarsi è danilo bassan da padova lo saluto e lo ringrazio ho avuto un'intervista a radio padova questa mattina prima di venire in trasmissione sul fatto che per noi evidentemente il fatto del giorno le parole del papa sull'aborto durante l'udienza generale di ieri cristiana di stefano lele paglia costantino monte bove stefano sigali daniela condemi alessandra triggi la valentina baldacci vittoria polacci ciao a tutti voi anche a piera giacometti siamo già in molti ma vi chiedo davvero di fare le nostre procedure abituali del mattino con la like alla diretta la condivisione sulla vostra pagina facebook e l'invio del link agli amici che magari non hanno ricevuto la notifica ma con il link che voi inviate via whatsapp via messenger a tutti i vostri amici sanno adesso che la diretta è cominciata grazie a carla stefanini alessandra trigila lucio simonetti alberto olivieri elena serra siete davvero molti vi chiedo visto che partiremo subito con la lettura del vangelo oggi è il vangelo di luca come in questi giorni nel giorno ordinario diciamo così nel tempo ordinario ci ci capita spesso tranne qualche deviazione sul vangelo di matteo saluto mario campanella romana cordova cristiana di stefano francesco carroni parisi dicevo poiché andiamo subito alla lettura del vangelo proprio perché oggi i tempi sono un po diciamo così costretti l'attualità ci fa fare una riflessione che deve essere approfondita ma oltre che approfondita ha anche bisogno di una certa tempistica perché oggi leggeremo una catechesi del papa cercheremo di ragionare su alcune questioni che ovviamente sono molto rilevanti in particolare per chi milita nel popolo della famiglia c'è il sacerdote che ci scrive da lontano don massimo lapponi c'è alessandra mondelli c'è alberto olivieri c'è giovanni fiori rossano giorello che ieri ha esordito sulla pdf tv alle 19 e 30 mi pare con un ottimo successo lui alessandro sportiello grazie alessandra mondelli anche alla sua trasmissione sulla pdf tv noi stamattina cominciamo una puntata che ripeto credo sarà abbastanza rilevante sul tema dell'aborto sulle parole del papa di ieri su come i media hanno trattato le parole del papa di ieri dunque perché credo sia abbastanza utile per il popolo della famiglia seguire quello che vi dirò intorno a questo tema e intorno anche alle questioni mediatiche collegate alle parole del papa se volete se potete un like alla diretta una condivisione sul vostro profilo e il link inviato a tutti i vostri amici affinché sappiano che la diretta di stampa evangelo è cominciata a poter mandare sia gli amici di facebook di messenger che gli amici di whatsapp ciao stefania parma ciao bobac falamachi ciao federica ferrari che mi dice cosa pensi al ddl pillon tutto il male possibile l'ho detto in varie sedi credo che ci sarà anche un'occasione di confronto al senato grazie al corriere della sera su questo tema proprio la settimana prossima ma vi saprò dire di più tra tra qualche giorno intanto leggiamo il vangelo di oggi il vangelo di luca siamo nel capitolo 11 versetti sono dove lì le vanno dal 5 al 13 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli amico prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti e se quegli dall'interno gli risponde non mi importunare la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me non posso alzarmi per darteli vi dico che se anche non si alzerà a darglieli per amicizia si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza ebbene io vi dico chiedete vi sarà dato cercate troverete bussate e vi sarà aperto perché chi chiede ottiene chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto quale padre tra voi se il figlio gli chiede un pane gli darà una pietra o se gli chiede un pesce gli darà al posto del pesce una serpe o se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli quanto più il padre vostro celeste darà lo spirito santo a coloro che glielo chiedono questa è la prova del signore di oggi chiediamo davvero tutti uniti lo spirito santo chiediamo di poter avere parole degne del nostro incontro con cristo anche nell'incontro con gli altri e in questo siamo facilitati lo voglio dire su un tema che è un tema cruciale della militanza ad esempio nel popolo della famiglia dall'audienza del papa di ieri udienza incredibile straordinaria perché a un certo punto il papa ha detto e questa frase è nella trascrizione finale ufficiale che trovate sul sito del vaticano quindi non è una di quelle frasi aggiunte che poi vengono cancellate dalla dalla ufficialità lo trovate su vatican punto va non lo trovate la parola chiave la parola sicario diciamolo subito ieri il sistema mediatico è sobbalzato perché il papa ha detto che l'aborto è come affittare un sicario per risolvere un problema e questa parola sicario ad aver cambiato completamente la valenza della catechesi di ieri dal punto di vista mediatico ieri a un certo punto dopo il papa ha poco prima delle undici aveva pronunciato la parola sicario repubblica corriere tutti i grandi siti aprivano sulle parole del papa poi durante la giornata non è che sono accaduti molti fatti non ci sono notizie importanti non c'è nulla che dice bisogna aprire su questo ma tutti i giornali tutti hanno cominciato a far retrocedere molto lentamente ma ma inesorabilmente le parole del papa che sono parole enormi di un significato colossale anche molto provocatorie quindi da titolo di prima pagina sul chi sono io per giudicare siamo stati dieci giorni con le prime pagine di repubblica bene stavolta invece le parole del papa vengono lentamente vi ricordate quando vi parlavo della leva del volume bene la leva del volume è stata progressivamente abbassata quando il papa ha parlato a caldo evidentemente a tutti è sembrata un'enorme notizia ci hanno aperto tutti i siti repubblica corriere della sera d'agospia tutte a rincorrere le parole del papa poi il sistema mediatico ha scelto di abbassare la leva del volume oggi andate su repubblica repubblica ha una prima pagina per certi versi sconcertante in cui totalmente autoreferenziale parlano di loro stessi delle loro battaglie e non c'è una riga non c'è una riga in prima pagina sulle parole del papa non una riga l'apertura di libero è prime crepe nel governo l'apertura del fatto quotidiano è avellino come genova capite che non ci sono titoli forti che dicono bisognava aprire su questo l'apertura della verità è preparano un altro governo monti così sono titoli di apertura che non hanno senso tutto pur di occultare la frase del papa che viene lo ripeto dalla prima pagina di repubblica addirittura completamente cancellata non c'è era la notizia e quando papa ha parlato era apertura del sito repubblica.it progressivamente repubblica sceglie di cancellarla dalle principali notizie del giorno e tutti i giornali fanno lo stesso non c'è nessun giornale che fa l'apertura sulle parole del papa tutti devono a inventarsi un'apertura perché oggettivamente ieri la notizia d'apertura non c'era perché non ci sono fatti estremamente rilevanti e incredibilmente persino avvenire diciamo che avrebbe tutto l'interesse a fare l'apertura sulle parole del papa si deve inventare un'apertura la caccia al tesoro che non si capisce proprio generica e confina il papa in un angolo cancellando la parola sicario e dicendo il papa ogni bambino malato è un dono in un angolo della pagina allora il tema ricordatevi è questo la stampa e le televisioni anche hanno silenziato di fatto una catechesi che a tutti mentre veniva pronunciata è sembrata di enorme rilevanza perché l'hanno cancellata adesso poniamoci questo tema prendiamo per atto diamo per acquisito il fatto che esista un meccanismo perché lo diamo per acquisito che se il papa avesse detto viva il matrimonio gay avrebbe tenuto aperto quindi su un tema che loro definisco di diritti civili avrebbe aperto tutti i giornali del mondo per settimane se il papa dice abortire come affittare un sicario sempre sui temi dei cosiddetti diritti civili complessivamente il sistema abbatte abbatte questa notizia e la cancella dalla dieta mediatica degli italiani io ho fatto due interviste una una radio romana si chiama radio radio abbastanza nota in questa città una radio padova questa mattina in cui ho spiegato questo meccanismo attenzione le cose che dico il papa non sono cose estemporanee fanno parte della sua pastorale vorrei dire che è la pastorale legata alla cultura dello scarto l'ha detto mille volte il fatto nuovo è l'utilizzo della parola sicario che evidenzia un meccanismo e assegna una responsabilità che hanno fatto i giornali chi era intervistato a radio radio subito dopo di me silvio viale cioè il medico che ha detto i bambini li frullo ora io ho scritto ironicamente l'editoriale che leggete oggi sulla croce come se a un gol di platini fosse contrapposta alla spiegazione di scarnicchia cioè non non puoi fare un'operazione del genere mediatricamente insensata però questo per farvi capire che vogliono mettere sullo stesso piano un papa e silvio viale cercando di dire che sono due tesi diciamo ugualmente contrapposte e poi progressivamente cancellare cancellare dall'orizzonte mediatico complessivo come ha fatto repubblica la notizia in sé perché questa si chiama censura ancora più di censura non devono attivare quella parte di ragionamento che il papa inevitabilmente con la sua frase innesca tant'è che oggi io a radio padova ho chiuso l'intervista dicendo voi potete attaccare ad in orfi quanto vi pare il popolo della famiglia quanto vi pare non è un problema lo fate sempre per carità però voi poiché le posizioni che stiamo spiegando le ha spiegate il papa ieri adesso dovete avere il coraggio di dire che il papa dice cazzate questa è stata la mia ultima frase a radio padova e lì si sono dovuti fermare perché è molto difficile molto difficile adesso per chiunque dire il papa ha detto una stupidaggine nessuno si azzarda tant'è che la soluzione è silenziare la frase del papa persino i cattolici persino avvenire toglie la parola sicario che è quella che innesca il meccanismo se c'è un sicario c'è un omicidio se c'è un omicidio c'è un omicida se c'è un omicida le conseguenze sono evidenti allora attenzione a questo meccanismo cosa dobbiamo fare noi cosa riguarda noi ora noi dobbiamo far vivere quello che i media hanno fatto di fatto cancellato noi dobbiamo portare la questione dello scandalo intellettuale provocato da papa francesco nella riflessione di tutti perché adesso non potete più dire è una pazzia di adinolfi è una pazzia della città di verona è una pazzia del popolo della famiglia ieri durante la zanzara cominciavano a telefonare le persone a cruciani e vi assicuro che non avevamo organizzati noi dicendo le cose che diciamo noi e cruciani a un certo punto è sbottato ha detto ma che siete tutti del popolo della famiglia durante la zanzara che siete tutti del popolo della famiglia me l'ha segnalato un collega un amico del pdf di piemonte mario campianella che sentiva in quel momento la zanzara perché perché evidentemente cominciamo a essere identificati come quelli che ripetono sempre questo tema sempre insistentemente pure sembrando matti ma adesso è più difficile dire che il papa è matto è più complicato guardate il vangelo di oggi come ci viene in aiuto bussate e vi sarà aperto chiedete e vi sarà dato lo spirito santo e allora facciamolo lo abbiamo chiesto lo chiediamo e vedete che qualcosa accade di importante perché dio a chi chiede un pane non gli dà una serpe non gli dà una pietra come dice il vangelo di oggi avvenire in prima pagina non ha scritto la parola sicario noi dobbiamo avere la forza di andarci a leggere e spiegare bene quello che sta avvenendo e anche dargli una lettura come dire per l'attività quotidiana che noi svolgiamo che è un'attività politica qual è l'obiettivo l'obiettivo è che non si abortisca più fatto una puntata ieri in cui ho dato i numeri sono nate più o meno mille persone sono morte 1500 ieri e ne sono state abortite 241 è chiaro che noi abbiamo un gap tra nati e morti è chiaro che si muore più che nascere è chiaro che questo porterà è stata presentata ieri una ricerca alla presidenza del consiglio dei ministri nel silenzio totale dei media alla perdita del 17 per cento della popolazione in un trentennio cosa che non è successa neanche nel trentennio che ha riguardato le due guerre mondiali questo è un male se è un male noi l'obiettivo che dobbiamo porci è limitare fortemente fino ad azzerare le pratiche abortive come legando le mani ai sicari o meglio spiegando ai sicari che devono diventare obiettori di coscienza noi abbiamo proclamato ieri l'obiettivo del 100 per cento dei medici obiettori di coscienza in questo paese è un obiettivo raggiungibile nella mia regione sono l'ottanta per cento in basilicata sono l'ottantanove per cento prendiamo davvero spazio con questa campagna ai medici diciamo dovete essere obiettori di coscienza perché non perché lo dice adinorf il pdf il papo il vangelo perché lo dice il vostro giuramento di ipocrate perché il fondamento della scienza medica il giuramento di poker vi impone come medici di curare non uccidere di non somministrare mai farmaci abortivi o che provocano l'eutanasia e la morte del paziente è nel vostro giuramento fondante della professione medica e allora questo nostro lavoro è il lavoro fondamentale determinante decisivo è faticoso sembriamo matti sembriamo controvento ieri vi ho citato in televisione alcune cose orrende tra cui una cosa di alessandro cattelanna che intervistava monica cirinna facendola sembrare un'eroina e una che spiegava la sua legge senza neanche conoscere la sua legge a un certo punto mi sembra strano che gli altri dicono cose diverse perché il mondo va in una direzione per forza in quella direzione e non può che andare da quella parte saranno sicuramente travolti e invece no caro alessandro cattelan ci siamo conosciuti ai tempi di mtv fatti dire alessandro cattelan che non è vero che il mondo va necessariamente in una certa direzione ieri il papa ti ha detto per esempio la direzione in cui va il mondo non è non è la direzione giusta è come affittare sicari la frase chiave che ho inserito l'editoriale di oggi della croce unico quotidiano che apre che fa l'apertura sulla frase affittare abortire come affittare un sicario la frase che ho inserito fondamentale della catechesi di ieri è papa francesco che dice nessuno misuri la vita secondo gli inganni di questo mondo questa è la frase chiave nessuno misuri la vita secondo gli inganni di questo mondo è l'elemento centrale di una catechesi ieri in piazza san pietro che è meravigliosa la dobbiamo leggere la voglio leggere con voi come può essere terapeutico dice il papa civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare io vi domando è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema è giusto affittare un sicario per risolvere un problema non si può non è giusto fare fuori un essere umano benché piccolo per risolvere un problema è come affittare un sicario per risolvere un problema un bibbo malato è come ogni bisognoso della terra con un anziano che necessita di assistenza come tanti poveri che stentano a tirare avanti colui colei che si presenta come un problema è in realtà un dono di dio che può tirarmi fuori dall'egocentrismo e farmi crescere nell'amore la vita vulnerabile ci indica la via d'uscita la via per salvarci da un'esistenza ripiegata su se stessa e scoprire la gioia dell'amore cosa conduce l'uomo a rifiutare la vita dice il papa sono gli idoli di questo mondo il denaro meglio togliere di mezzo questo perché costerà il potere il successo questi sono parametri errati per valutare la vita caro alessandro gattelam ecco dove dovrebbe andare il mondo non affittate sicari per uccidere la verità uccidendo l'uomo uccidete la verità uccidendo un bambino uccidete la verità uccidendo un sofferente un affaticato un depresso uccidete la verità che è anche la verità della sofferenza del dolore della fatica del vivere dell'essere tutti noi non solo ego riflessi ed ego riferiti è lì che moriamo questa catechesi secondo me andrebbe io l'ho messa integralmente nell'editoriale di oggi nell'editoriale della croce perché sia fatta una riflessione integrale su tutte le parole hanno cancellato con un bianchetto la parola sicario persino su avvenire devo dirlo persino su vatican news cioè pure la stampa cattolica si è quasi vergognata del papa non lo faremo noi la verità addirittura ha fatto il titolo sprezzante vergoglio fa il papa e sotto ha fatto un articolo sull'arcivescovo di milano che coprirebbe un violentatore di ragazzini l'attuale arcivescovo di milano io continuo a chiedere ai nostri amici di non scrivere più una riga su quel giornale orrendo che coglie ogni occasione per attaccare tutti i giorni la chiesa cattolica tutti i giorni oggi anche l'arcivescovo di milano ma quello che vorrei che davvero il punto di domanda che pone papa francesco che lo pone appunto con un punto interrogativo è giusto affittare un sicario per risolvere un problema io vi domando dice il papa è giusto fare fuori una vita umana questo è il punto di domanda e non si scappa non si scappa è giusto questo è il punto noi adesso abbiamo in mano un regalo enorme abbiamo chiesto bussato c'è stato aperto come dice il vangelo di oggi c'è stato aperto c'è stato donato lo spirito abbiamo le parole per dirlo ci sono state regalate la settimana prossima saremo in piazza con il papa venite tutti all'assemblea so che abbiamo solo 70 posti a sedere ma c'è spazio in tutta la piazza non mi cominciate con la gara che sono gli 70 perché non so chi saranno ma insomma saremo tutti lì poi faremo una grande foto bella in piazza san pietro saluteremo io saluterò personalmente il papa insieme a una piccola delegazione di noi avremo un'assemblea nazionale venite tutti perché l'assemblea precedente a quella che è proprio l'assemblea dedicata anche al popolo della famiglia ci ha regalato parole straordinarie per la nostra mobilitazione adesso non devono più dire che i pd e fini sono matti che a di rolfi è uno che si è sposato a las vegas e non può parlare l'interrogativo è oggi rivolto a tutti ed è la parola chiave è giusto è giusto eliminare una persona umana perché affaticata oppressa troppo piccola per potersi difendere è la parola chiave chiave affittare un sicario questa è la vita nel mondo che va inevitabilmente in una certa direzione che reifica la persona umana esattamente come monica cirinna che ci spiega che la famiglia è fatta anche da due maschi e si vogliono comprare un bambino affittando l'utero di una donna esattamente la stessa cosa se reifichi la persona umana la conseguenza di quella reificazione è l'eliminazione della cosa la puoi eliminare ma il problema è è giusto punto di domanda quel punto interrogativo viene oggi rivolto da papa francesco a tutta l'umanità e l'umanità ipocrita si vergogna abbattendo il livello del volume delle sue parole cancellandolo dalla prima pagina di repubblica mettendo un angolino persino su avvenire e invece noi dobbiamo far risuonare queste parole è giusto perché tutti sanno ho detto nell'intervista alla fine oggi a radiopadova stamattina che ha ragione il papa che non è giusto che la risposta fondamentale la dà vittoria polacci non è giusto è sbagliato è sbagliato e sbagliato resta sbagliato qualsiasi legge voi vogliate fare sbagliato resta sbagliato e noi popolo della famiglia testimoni di verità andremo in giro a dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e a ripetere che ciò che è sbagliato è sbagliato e devono abbattere il livello del volume della catechesi di ieri di papa francesco perché sanno che la risposta alla domanda del papa che indaga i cuori di ciascuno di loro è una risposta che ha a che fare con la verità e la verità è quella che dice il papa io ieri ho affidato la mia bambina al primo giorno di catechismo ho messo la foto di padre maurizio botta perché è affidata grazie a dio alla enorme capacità di cura di padre maurizio che oltre a tutte le enormi qualità che ha è anche uno straordinario educatore di bambini io continuo a dirvi in barba al mondo che dice i predi pedofili affidate la crescita il futuro e la speranza alla sposa di cristo alla chiesa alle strutture della chiesa che sono l'unico luogo dove gratuitamente troverete un sacerdote una suona o religioso una religiosa un volontario che sorriderà e appoggerà la vostra fatica anche la fatica di essere genitori che educano allora noi riflettiamo su tutto questo oggi gli antipapisti sono in difficoltà arrivato marco graziola un altro che cita la bonino ha definita grande italiana da bergoglio oggi fate quello che volete signori oggi c'è un grande papa che ha fatto una grande catechesi che è un dono per ciascuno di noi se veramente siamo persone in lotta per la vita se qualcuno invece ce l'ha col papa e deve per forza sempre trovare la questione allora si capisce oggi che c'è un pregiudizio nei confronti del papato e allora non non vale divisioni incorrenti in gruppusco e tutto senza senso oggi abbiamo una straordinaria catechesi del pontefice romano che ci viene assegnata e consegnata perché diventiamo ciascuno di noi testimoni di verità animati dallo spirito santo che abbiamo chiesto per poter dire parole di verità e lo stiamo facendo e lo faremo e lo faremo con una determinazione di cui non ci sanno capaci ma noi sappiamo di esserne capaci e noi su questo costruiremo la nostra militanza nell'oggi nel domani nelle elezioni che verranno nel senso stesso di essere popolo e di essere popolo della famiglia questo è il nostro lavoro marco graziola parla di incoerenza di bergoglio fatemi dire ad alcuni che forse i cattolici che anche oggi hanno non hanno di meglio da fare che attaccare il papa devono ragionare sulla propria incoerenza fatemelo dire invece di stare lì col ditino sempre puntato a dire è incoerente il papa siate cattolici ragionate sul fatto che anche oggi state attaccando il papa e pensate se siete o no coerenti voi con la fede che proclamate e basta con questo attacco insensato almeno oggi in un giorno in cui una catechesi straordinaria ci viene consegnata e davvero ha detto bene giovanni marco tuglio che tra l'altro guida la redazione della croce non a caso pensate se avesse fatto questa catechesi papa benedetto cosa gli avrebbero fatto pensate cosa gli avrebbero fatto allora io vi chiedo oggi questa puntata credo sia molto importante è una puntata stampa evangelo che spero e credo possa circolare no vi chiedo un like alla diretta ve lo posso chiedere la condivisione la diretta sul vostro profilo dalla condivisione la diretta prendete il link e consegnatelo a tutti i vostri amici via whatsapp via messenger fate leggere il quotidiano la croce oggi solo il quotidiano la croce apre sulla frase centrale fa l'apertura abortire è affittare un sicario non c'è da edulcorare da cancellare il nome da mettere nell'angolino la frase è abortire è affittare un sicario ci chiede papa francesco nella catechesi è giusto l'intera catechesi la trovate solo nel mio editoriale sul quotidiano la croce quindi leggetelo sto benedetto quotidiano www.lagrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora leggetelo perché lì trovate una riflessione organica sulla catechesi di ieri non solo la frase ma l'intera catechesi quello che abbiamo letto insieme e i temi che ne derivano e l'attività che ne deriva se siamo persone vogliono andare a fare battaglia su questi temi ho fatto le mie interviste con intervistatori che avevano un'opinione opposta ma vi assicuro che alla fine dell'intervista stavano lì in difficoltà quando ho detto a radio padua dovete dire che il papa ha detto cazzate ci riuscite a dirlo e lì è stato silenzio lì è stato silenzio e quando ieri alla zanzara cruciani è partito attaccando brutalmente il papa e poi ha aperto le linee telefoniche le linee telefoniche erano piene di gente che ce l'avevano con cruciani e difendevano le parole del papa e cruciani è sbottato dicendo ma che siete tutti del popolo della famiglia eccoci qua eccoci qua piano piano quotidianamente a costruire quel lavoro di innervamento della società questo è il nostro lavoro siamo 220 mila siamo tantissimi siamo tantissimi e motivati motivati da quell'incontro quotidiano col vangelo che oggi abbiamo ripetuto abbiamo ripetuto nella richiesta fondamentale donaci lo spirito santo dio padre affinché siamo in grado con le nostre parole di andare fuori da qui a parlare a più persone possibili alessandra mondelli ci siamo sempre di più anche io la sensazione che cresciamo sempre di più stampa evangelo vedo nei numeri che ha delle delle capacità di parlare a migliaia e migliaia di persone ogni giorno e allora usiamoli questi strumenti abbiamo tante trasmissioni della pdf tv abbiamo una militanza ormai capillare su tutto il territorio nazionale ritroviamoci tutti mercoledì con il papa all'udienza abbiamo anche i 70 posti riservati al popolo della famiglia ma tutti in piazza san pietro per fare una grande foto insieme di famiglia e poi andare a fare la nostra assemblea nazionale alle 14 e 30 al palazzetto delle carte geografiche facciamo sentire anche il nostro calore al santo padre anna russo dice papa francesco ha sempre fatto splendide catechesi prima c'era un'aria cattiva adesso fa splendide catechesi e i numeri dei vari giornali però abbattono la sua l'attenzione alle catechesi guardate bene notatelo questo meccanismo e quindi capite quanto è fondamentale il lavoro che svolgiamo oggi danilo lonardi da uomo di comunicazione nota che oggi noi stiamo facendo numeri record qui a stampa evangelo quindi cerchiamo di no di essere siccome siamo tanti danilo lo nota perché uomo di comunicazione cerchiamo di essere tutti capaci di portare questi punti interrogativi nel mondo anche attraverso questa puntata questa quarantina di minuti che poi tante persone seguono quindi un like alla diretta una condivisione sulla vostra pagina facebook e l'invito a partecipare a stampa evangelo con il link inviato ai nostri amici sia via whatsapp sia via messenger con questo strumento noi riusciamo a far arrivare più persone a più persone possibile la nostra parola la nostra militanza di popolo della famiglia io penso che la grande occasione della catechesi sul non uccidere perché ricordiamo che la catechesi di ieri del papa era sul tema del non uccidere è una grande occasione per la nostra militanza territoriale qual è l'obiettivo che dobbiamo centrare dobbiamo arrivare all'obiettivo del 100 per cento di medici obiettori di coscienza guardate che è un obiettivo realizzabile vi dico che nel nostro nella mia regione il lazio siamo all'ottanta per cento nella basilicata all'ottantanove per cento noi dobbiamo far sì che ai medici sia persino non conveniente procedere con l'aborto perché perché l'aborto è un male gravissimo della società è una malattia gravissima non è un diritto l'aborto non è un diritto è una piaga è una piaga ed è una tragedia noi dobbiamo ripetere con chiarezza l'aborto non è un diritto è una piaga è una tragedia in una società dove ogni giorno nascono mille persone ne muoiono 1500 e 241 vengono abortite è una follia che con questi saldi nati vivi nati morti abbiamo la decisione l'indecenza di uccidere 241 bambini al giorno per ragioni sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi assolutamente risibili rispetto alla grandezza e la bellezza della vita di un bambino dobbiamo saperlo dire con nettezza con chiarezza pagando tutti i prezzi e quando ci diranno siete matti e noi diremo guarda che queste parole te le manda a dire papa francesco leggi qua leggi queste tre righe te le manda a dire papa francesco è un matto è un vecchio è un vecchio pazzo da internare che dice cavolate se non lo è prendi il punto di domanda che ti rivolge questo vecchietto di 82 anni argentino e sii sincero nella risposta è giusto eliminare una vita umana perché fragile è giusto e con quel punto di domanda ragazzi vanno in crisi tutti e poi che vanno in crisi cancellano la domanda è giusto affittare un sicario cancellata la domanda cancellata repubblica si accorta che era una catechesi enorme ci aveva fatto l'apertura cancellata dalla prima pagina tutti i giornali piccoli cagatelle messe qua e là la prima tre righe cinque righe anche avvenire non usa la parola sicario quando ieri c'era da fare i titoli d'apertura grandi così il papa dice che abortire è come affittare un sicario questo è il titolo d'apertura solo del quotidiano la croce purtroppo solo del quotidiano la croce la verità dice che l'arcivesco di milano copre i violentatori i ragazzini e quello è il giornale che incarna i nostri valori ma ma quanto si sbagliano signori quanto quanto abbiamo avuto sempre ragione possiamo dire nella nostra tenacia che dura da anni nella nostra testugge attaccati da tutto e da tutti quanto abbiamo avuto sempre ragione quanta fatica è e quanta fatica ci vuole fare questo percorso sotto il fuoco amico e nemico ma quanto avevamo sempre ragione e allora cerchiamo di essere conseguenti a questa consapevolezza è un lavoro che stiamo svolgendo faticoso so che riguarda la vita di ciascuno di noi noi diamo molto della nostra vita a tutto questo e paghiamo prezzi enormi tutti tutti nessuno escluso a partire dal sottoscritto ci esponiamo agli sfottò all'attacco al ridicolo ogni giorno ogni minuto anche qui ecco qua arriva un daniele bianco che mi definisce ciccio gamer e ciccio violentissimi di ogni natura fatti a mia moglie fatta la bambina che sta arrivando fatta clara non si fermano davanti a niente ma sappiamo che ogni prezzo che stiamo pagando è per la verità perché abbiamo chiesto al padre nostro che è nei cieli c'è stato dato lo spirito lo spirito santo e quindi parliamo e quindi continuiamo a parlare non c'è niente da fare non ci ferma niente andrea brenna dice ti attaccano perché hanno paura è probabile sia così adesso devono attaccare il papa però e allora che fanno siccome non riescono a dire il papa dice cavolate lo azzittano gli tolgono il volume media e allora noi dobbiamo essere bravi a diventare quella levetta mediatica che è stata fermata e abbassata dai media ordinari e allora il nostro lavoro è quello attraverso anche la pdf tv di far risuonare queste parole noi ti vogliamo bene dice cristina liotta e ci uniamo a qualsiasi spillo da donare con te grazie grazie davvero a te cristina e grazie a michelle caffarella che dice datti una pettinata non so se avete notato già il secondo terzo che dice questa cosa non riescono ad avere un altro argomento l'avete notato il tema è ciccio ciccio gamer oppure pettinati non riesco non riescono a avere un altro argomento perché perché questi argomenti sono argomenti determinanti su cui la risposta a quella domanda è giusto è giusto eliminare una persona debole piccola affittare un sicario davanti a quella domanda stanno zitti perché non riescono a dire che è giusto devono attaccare su tutti gli altri piani ecco quest'altro siete affamati di denaro signori miei sapessi quanto denaro abbiamo dovuto mettere dentro a questa roba per farla esistere in questi tre anni ma era giusto farlo era giusto farlo e riguardatelo sul tema non riescono a dire una parola e danilo dice i giornalisti spettinati dicono la verità non lo so noi abbiamo le nostre anime spettinate siamo un casino ma da questo casino l'ho detto una volta proprio a danilo in privato citando friedrich nietzsche è solo dal grande caos che può nascere una stella danzante e allora dobbiamo essere militanti della verità e se siamo militanti della verità e sappiamo che stiamo dicendo la verità e nessuno guardate questa puntata la guarderanno migliaia e migliaia di persone nessuno verrà qua a scrivere che è giusto eliminare una persona davanti alla punto di domanda che pone il papa saranno tutti zitti al massimo insulteranno ma staranno zitti perché non riusciranno a dire quello che non si può dire cioè che sia giusto fare il male giovanni fiori dice bene i radical chic sentono che i loro piedi sono ormai d'argilla non c'è terreno per il male c'è una sola possibilità oggi provare a testimonare la verità spess contra spam dicono alcuni o per dirla alla cattelan pure se il mondo va da un'altra parte ma non seguite gli inganni del mondo la frase chiave della catechesi di ieri di papa francesco sappiate essere intelligenti difendere la vita perché nessuna vita può essere piegata alle logiche degli inganni del mondo e possono arrivare vedi commenti al caso mccarric inizia a stare zitto tu il team papa ha coperto mccarric devono attaccare su altri fronti perché sul tema non riescono a dire una parola ed è bello vederli in difficoltà assoluta rispetto al tema centrale che pone il punto interrogativo fondamentale di ogni azione umana è giusto è giusto eliminare una persona anche se piccola affittando un sicario e niente non ce la fanno a dire sì è giusto non ce la possono fare allora voi avete capito avete in mano la carta vincente fatelo dire al pocherista avete in mano la questione delle questioni la domanda semplicissima e allora fatela vincere fatela vivere questa questa domanda e fatela vivere da militanti del pdf come dice valeria annecchino che siamo davvero militanti della verità e allora salutando anche chiara ardente c'è la nostra militante geraci dalla sicilia ilaria giurlani mirco fanizzi che sta lavorando molto bene in puglia oggi ha prodotto un altro documento per interrogare un comune su pratocinia nelle associazioni LGBT un saluto a Flavia Lanci oggi scusate ho salutato poco di solito mi rimproverano e saluto troppo oggi magari il rimprovero sarà quello opposto perché ho salutato poco ma avete capito che le cose da dire erano molte come dice Laura Conticelli possiamo essere tranquilli la verità trionfa sempre Marcello Baldini nota che l'articolo su Repubblica è sulla pagina 16 cancellato dalla prima pagina saluto Sergio Landi saluto che ce l'ha sempre colpava non si capisce perché Daniela Scavolini Domenico Gallo saluto davvero tutti gli amici anche quelli sono venuti comunque cinque attratti da stampa Evangelo ma per contestare e va benissimo come sapete il mio profilo è aperto e il fatto che il profilo sia aperto è una scelta affinché la libertà sia dimostrata che è libertà anche per coloro che non la pensano come noi o che vogliono semplicemente insultarci e possono venire a farlo perché la libertà è pedagogica e perché il cristiano non deve avere paura della ferita inferta dall'arma altrui perché altrimenti non sarebbe un cristiano che andava cantando al Colosseo pur di testimoniare la verità a farsi dilaniare dai leoni figure che ci impressionano due scemi dei social network allora noi provando a dire anche ai nostri fratelli cattolici che ci hanno sempre col Papa vedo Sergio Lanni che vivere col dito puntato contro il Papa dicendo che addirittura che è incoerente forse la domanda che dovete farvi è ma siete sicuri che vivere con un assio profondo verso il successore di Pietro non renda incoerenti voi nella vostra fede nei confronti della chiesa di Roma ragionateci forse l'incoerenza riguarda voi perché poi in ogni critica c'è un'autobiografia molta attenzione su tutto questo vedo che si è connesso anche David Parenzo alla puntata di oggi sono lieto che alla puntata della zanzara ieri c'erano state molte telefonate che Giuseppe Cruciani ha confuso come telefonate dei militanti del popolo della famiglia in realtà noi non siamo bravi a organizzare queste cose semplicemente molte persone caro David la pensano come la pensiamo noi anzi facciamo più semplice la pensano come la pensa il Papa e su questo dovete cominciare a esercitare una riflessione perché pensavate che tutto il mondo la dovesse pensare per forza come voi David Parenzo e Giuseppe Cruciani sono ovviamente laicisti, abortisti e invece un grande segmento della società la pensa in maniera diversa e questo voi che siete sempre democratici e liberali dovreste accettarlo e accettare anche il confronto in campo aperto davanti a un Papa che vi interroga sul fatto se sia giusto o meno uccidere un essere umano indifeso benché piccolo affittando un sicario e questa frase vi interroga, inevitabilmente vi interroga e quando la proclamava il popolo della famiglia devo dire che proprio con David e con Cruciani lunedì sera ho fatto l'intervista a Radio 24 in cui ovviamente ho ripetuto le cose che ho da dire sull'aborto mi hanno detto ah sei stato troppo duro perché hai parlato di abortisti come omicidi e poi è arrivato il Papa il giorno dopo a dire sicari e quindi insomma capite mi sono sentito come dire coperto e gratificato nella intervista che ho fatto a Radio 24 evidentemente non avevo sbagliato minimamente i toni ero anzi molto più moderato rispetto a quello che è stato detto dal Papa se mi fosse venuta in mente la parola sicari chissà che titolo sarebbe venuto fuori da quell'intervista invece grazie a Dio è stata una parola utilizzata da Papa Francesco vi ringrazio davvero molto per la partecipazione alla diretta di oggi devo staccare perché sennò andiamo troppo lunghi e poi Facebook ci punisce perché c'è troppa gente che viene a seguirci dobbiamo stare sempre molto moderati perché se non siamo moderati le persone poi dopo ci segnalano, fanno di tutto affinché non sia visibile la PDF TV a proposito oggi su PDF TV a 18.30 ci sono Sigali e Polacci che parlano di questo tema saluto come ho detto già Priscavegni, Monica Vitali, Ciciliabini che dice ti vogliamo bene Mario, Giovanni Mazzotta, Forza PDF ricordo a tutti amici PDFini ci vediamo mercoledì all'udienza del Papa alle 14.30 all'Assemblea Nazionale cercate di esserci perché sarà una grande occasione di incontro e di confronto e soprattutto sarà un'occasione per abbracciare Papa Francesco dopo questa straordinaria catechesi che ci ha regalato ieri proprio nell'udienza antecedente a quella in cui siamo inclusi anche noi del popolo, della famiglia Sabrina Bosu parla di PDF moderatamente esplosivo mi piace questo simoro come dicono quelli che sono bravi saluto Umberto Fortunato, Ilaria Giurlani, Mario Campanella e tutti gli amici Marcello Baldini, tantissimi che hanno seguito la diretta di oggi se potete un like, un ultimo like alla diretta una condivisione al vostro profilo Sergio Landi dice ritengo che Bergoglio sia un disastro e mi chiede una risposta io no, lo considero un grandissimo Papa e comunque sono l'ultimo dei cristiani peccatori siedo nell'ultimo banco in chiesa non faccio e non posso fare la comunione e ho una sola cosa da dire ai cristiani che vogliono spiegare agli altri io non sono il Papa e non ho mai preteso di insegnare al Papa di fare il Papa quando avevo delle cose da dire in contraddizione le ho dette serenamente penso alla discussione sullo YouSoli tanto per dirne una ma mai mi permetterei sul piano ecclesiale di chiamare questo Papa con proprio l'epitedo sprezzante che viene usato anche oggi sulla verità di Bergoglio sono semplicemente un cristiano umilmente un cattolico che va a messa e che dunque rispetta la gerarchia e rispetta le norme canoniche magari penso che alcune cose possano essere diverse nel mio cuore ho delle idee ma non mi metto a insegnare alla Chiesa a fare il magistero che serve a me non mi metto a dire al Papa che non è il Papa sono semplicemente l'ultimo degli ultimi che sta nell'ultimo banco quando va a messa quindi mettersi a fare quelli che insegnano al Papa come fare il Papa o che dicono Bergoglio è un disastro visto che mi hai chiesto esplicitamente una risposta Sergio la trovo un atto di superbia davvero molto grave e da parte di un cattolico che vuole rimproverare al Papa una incoerenza credo ripeto che sia una critica che somiglia molto a un'autobiografia questo lo dico nella mia umiltà e senza che questo valga per niente per nessuno ripeto sul piano ecclesiale sono solo l'ultimo dei peccatori che si era all'ultimo banco quando va a messa vi ringrazio molto davvero vi abbraccio uno per uno vi chiedo di dare il like alla diretta di condividerla sul vostro profilo credo che abbiamo detto cose importanti dunque di far avere anche il link ai vostri amici su Facebook su Messenger e su Whatsapp da Maria Di Nolfi una buona giornata a tutti arrivati in Extremis anche Roberto Mura recente editorialista della Croce sul tema della Cannabis Light bellissimo editoriale di Roberto Mura spero che ne scriva altri visto che se non sbaglio domani comincia la fiera della Cannabis Light a Pisa servirebbe davvero un'ulteriore denuncia di Roberto Mura e di tutto il PDF di Pisa su queste tematiche saluto Guido Pianeselli che è arrivato giusto ora Domenico Gallo Giovanni Mazzotta Giovanni Fiori Antonella Gratino Mari Mar Anna Russo e insomma un abbraccio davvero a ciascuno di voi spero che la puntata sia stata all'altezza almeno minimamente della straordinaria catechesi di Papa Francesco 10 ottobre del 2018 in Piazza San Pietro in Roma un momento della storia della Chiesa vorrei dire che ricorderemo da Maria Di Nolfi una buona giornata a tutti di Piazza San Pietro